Musica Charlie, io conosco le tue idee e le rispetto. Se è così, perché non lasciate in pace quei poveri disgraziati di Arabi? Perché non gli rendete le terre che gli avete rubato? E noi dove dovremmo andare? Forse preferiresti che ci prendessimo un pezzo d'Africa o di Uruguay? L'Egitto no, grazie. Ci siamo stati tanti anni fa, ma non ha funzionato. O magari nei ghetti. Io voglio solo la pace. Oh, certo, e anche noi. Per questo ti abbiamo scelta. Scelta per che cosa? Abbiamo una parte per te, un lavoro d'attrice. Attrice? In che cosa? Una parte in un teatro diverso, quello della realtà. Il ruolo più difficile e impegnativo che tu abbia mai avuto. E certamente il più importante. Ah sì, e cosa dovrei fare? Uccidere degli Arabi? Questo non te lo chiederemmo mai. Cos' things change, but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it stars snow. Oh! No!